dei giochi invernali del 26, scrive Aurora, uge il collegamento col tonale col superamento della galleria ottocentesca Valcamonica. Nicola Scocuzza, ricordiamoci la ferrovia Matera, Matteo ne sai qualcosa? Tra l'altro lo dico a Nicola, abbiamo messo dei soldi su questo quando eravamo al governo noi in Marina. Matteo, non mollare la politica. E chi la molla? Tranquilli ragazzi, che noi molliamo la politica è la speranza dei 5 Stelle. Io dico sempre, anziché domandare a me di smettere di far politica, iniziassero loro a far politica sempre che ne siano capaci, cosa di cui dubito.